Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Leonardo Bardazzi. Sulla FIPILI restringimento di carreggiata nel tratto tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina, per lavori in corso. Ancora in FIPILI, tra Montopoli, Valdarno e Ponte d'Era Est, in direzione mare, ci sono materiali dispersi in carreggiata. Si raccomanda prudenza alla guida per la presenza di vento forte segnalato in A1, tra Barberino e Pian del Voglio in entrambe le direzioni e tra Badia e località Aglio in entrambe le direzioni. Vento forte segnalato in A1 anche tra Arezzo e Valdichiana e in A12 tra Lucca e Massarosa in entrambe le direzioni. Ancora in A1 tra Sasso Marconi e il Bivio A1, variante di Valico Baccheraia, in direzione Roma, c'è un veicolo fermo in avaria. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!